Boccia le ha detto ora a prescindere da quello che è l'esito delle primarie lavoreremo insieme, voglio che lavoriamo insieme a prescindere da quello che sia il vincitore purché vinca il centro-sinistra in Puglia. Mi fa piacere questo repentino cambio di umore perché nei giorni scorsi lui si è molto lasciato andare, ha espressioni infondate, sopra le righe, non particolarmente garbate e gentili. Io sono molto contento quando le persone ritrovano l'eleganza della competizione delle idee piuttosto che la violenza della contesa muscolare.